Ogni cosa inizia con uno spazio buono. Utilizzando le tue potenzialità creative potrai riempire gli spazi. Iniziando ad utilizzare GoSpaces, una piattaforma che permette a tutti di creare, esplorare e condividere. Mondi fantasiosi GoSpaces ti offre gli strumenti per accedere ad esperienze d'apprendimento innovative. Racconta storie eccitanti oppure lascia volare la tua fantasia. Condividi le tue esperienze con la tua famiglia oppure spaventali come il tuo dinasauro T-Rex. Centinaia di mondi aspettano ad essere esplorati in modo virtuale. Preparatevi a divertirvi. Condividi le tue esperienze di apprendimento e lasciati affascinare a GoSpaces. GoSpaces è un'applicazione molto interessante per il mondo della scuola. Ti permette di creare veri e propri ambienti di apprendimento in modo collaborativo. L'opzione di condivisione permette di commentare a vicenda i propri lavori, di imparare gli uni degli altri e di trovare nuove soluzioni insieme. Grazie. 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 Grazie.